Il tema che tratteremo questa sera è di particolare importanza, gli esorcismi e le preghiere di liberazione. Coloro, Vangelo di Marco 16, 17, coloro che crederanno in me, è Gesù che parla, coloro che crederanno in me, nel mio nome scacceranno i demoni. Con queste parole Gesù che aveva dato il potere di cacciare i demoni prima ai dodici apostoli, poi ai settantadue discepoli, qui estende questo potere a tutti i credenti in lui, per cui chiunque crede in Gesù e ha vera fede ha il potere di cacciare i demoni, uomini, donne, bambini, adulti. Quello che occorre è tanta fede, perché il Signore dà tanta importanza alla fede e che si agisca nel suo nome, perché è la forza del suo nome quello che si dà là, il potere di cacciare i demoni. Ci diceva già Pietro non è stato dato agli uomini nessun altro nome in base al quale possano essere salvati. La forza del nome di Gesù, questo nome che veniva tanto divulgato ad esempio da San Bernardino da Siena, che è stato lui a ideare quella sigla IHS, Iesus Ominum Salvator, che c'è in molte particole, in molte ostie, e quando lui andava a predicare in un posto ci teneva che poi su tutte le porte si mettesse questa sigla, Iesus Ominum Salvatore, ossia il nome di Gesù. È un potere che viene direttamente da Cristo, questo potere di cacciare i demoni, per cui nessuno lo può togliere, nessuno lo può negare, nessuno lo può negare. Tutti hanno sto potere. Alle volte mi è stato chiesto, ma io ho anche il potere di dare il comando al demonio, sì. Se tu con fede dici nel nome di Gesù, Satana, vattene, puoi farlo, anche se sei un laico. Uomo, donna, qualunque età, puoi farlo, ne hai tutti i diritti. E noi leggiamo nella vita di vari santi che hanno cacciato senza essere sacerdoti, senza essere esorcisti, hanno cacciato i demoni, anche proprio col comando nel nome di Gesù, vattene, Satana. La Chiesa, però, per dare un maggiore aiuto a coloro che soffrono di inali malefici e per mettere in guardia dagli imbroglioni che subito sono incominciati a desistere, come oggi ci sono tanti falsi carismatici, ci sono tanti imbroglioni che dicono di parlare col Signore, con la Madonna, con i defunti, con gli angeli, con i santi e che so io. Allora la Chiesa ha istituito, notate, la Chiesa, mentre prima il potere di cacciare i demoni a tutti quanti con la forza del nome di Gesù, questo è un potere istituito da Cristo. Ecco perché nessuno lo può togliere. Invece la Chiesa ha istituito un sacramentale, l'esorcismo, e se vogliamo essere chiari e non cadere in catiri in continui equivoci, dobbiamo usare le parole nel senso appropriato, senza fare confusione. Per cui l'esorcismo, e va chiamato esorcismo, è un sacramentale istituito dalla Chiesa che può essere amministrato esclusivamente da quei sacerdoti che sono autorizzati dal loro vescovo. Quindi un laico non può mai essere un esorcista. Può fare preghiere di liberazione. Tutte le altre preghiere dirette a liberare dal demonio, recitate da sacerdoti, non esorcisti, o recitati da laici, sono preghiere private, mentre l'esorcismo è una preghiera pubblica che coinvolge l'autorità della Chiesa e le chiamiamo preghiere di liberazione. Io non ammetto altri linguaggi perché se no non ci si intende più. Ossia parlare di, non so, esorcismi semplici, esorcismi solenni, esorcismi. O sono esorcismi o non sono esorcismi. Naturalmente sono esorcismi anche quelli del battesimo. Sono autentici esorcismi. Che differenza c'è tra l'esorcismo e la preghiera di liberazione? Che cosa è più efficace? Diciamo subito, lo scopo è identico ed è quello di liberare la persona dal demonio o da mali, da disturbi di carattere malefico. Il catechismo della Chiesa Cattolica è molto chiaro in questo. Mentre il diritto canonico e il vecchio rituale parlavano solo di esorcismo nei casi di possessione diabolica, no, hanno aggiunto, accenna come poi si è sempre fatto praticamente dagli esorcisti, anche nei casi di mali causati dal demonio, di disturbi causati dal demonio. Anche in questo caso si possono usare gli esorcismi, tanto più si possono usare le preghiere di liberazione. Lo scopo quindi è identico, però quanto l'efficacia il discorso è più complesso. Un laico che prega per la liberazione dal demonio fa una preghiera privata in cui esercita il suo sacerdozio dei fedeli e si avvale del potere che Cristo ha dato a tutti coloro che credono in lui e cacciano il demonio con la forza del suo nome. Un sacerdote non esorcista che prega anche lui per cacciare, per liberare una persona, anche in questo caso è una preghiera privata, non è una preghiera pubblica, quindi non coinvolge l'autorità della Chiesa. A pari condizioni è più efficace perché esercita il sacerdozio ministeriale, che è più che non il sacerdozio dei semplici fedeli. Un esorcista che fa l'esorcismo ha un'efficacia ancora maggiore di per sé, perché agisce in nome della Chiesa, con l'autorità della Chiesa, quindi non è più una preghiera privata, è una preghiera pubblica. Una preghiera pubblica. Badate però che il Signore tiene molto conto della fede, per cui è possibile che una preghiera semplice, privata, fatta da un fedele, con grande fede abbia più efficacia che la preghiera fatta da un esorcista che abbia meno fede. È molto importante la fede, è molto importante la fede. Il direttore spirituale e biografo di Santa Caterina da Siena, padre Raimondo da Capua, quindi il confessore e storiografo di Santa Caterina, ci diceva che quando gli esorcisti non riuscivano a liberare una persona, la mandavano da Santa Caterina, che non era sacerdote, non era esorcista, ma era santa. Aveva una grandissima fede e Santa Caterina da Siena cacciava i demoni, cacciava i demoni con una preghiera privata, non preghiera pubblica, preghiera privata, ma fatta da vera fede, con vera fede, con la forza del nome di Gesù. Si noti anche che non basta solo la fede dell'esorcista o di colui che fa la preghiera di liberazione. È necessaria anche la fede della persona che viene liberata, è necessaria la fede dei parenti, è necessaria la fede di coloro che assistano. Quando una persona è colpita dal demonio fa bene a circondarsi da tante persone di fede che preghino per lui, magari raccomandandosi a suore di clausura, raccomandandosi a gruppi di preghiera, anche la fede delle altre persone ha tanta influenza. Avete presente l'episodio della guarigione di quel paralitico che viene calato davanti a Gesù, siccome non si poteva entrare per la ressa, gli viene calato dal soffitto, glielo pongono davanti e il Vangelo ci dice che Gesù, vista la loro fede, operò il miracolo. La loro fede, quindi non ha guardato solo la fede della persona del paralitico, ha guardato anche la fede di coloro che lo accompagnavano, la fede di coloro che cercavano di intercedere per lui. Riprendendo dunque il discorso del rapporto tra giorcismi e preghiere di liberazione, ecco quanto possiamo precisare, riaffermando che lo scopo è unico di liberazione dalla presenza o dall'influenza del demonio, per cui non c'è un netto confine e possono essere usate contemporaneamente entrambe le forme, ossia una persona colpita dal demonio può ricevere esorcismi da un esorcista e contemporaneamente ricevere preghiere di liberazione o da sacerdoti o da laici, specialmente qui do un grande merito al rinnovamento, ai gruppi del rinnovamento carismatico, cattolico, così estesi in tutto il mondo, perché hanno di nuovo introdotto per la siera persa la preghiera di guarigione e liberazione fatta da gruppi di laici. Meglio se guidate da un sacerdote, ma non è necessario, può anche essere guidato da un laico, può essere anche guidato da un laico. Ci sembra che è molto importante tenere presente queste osservazioni per la loro pratica utilità. Oggi purtroppo si incontra molta difficoltà a trovare esorcisti. Ne parleremo poi in una trasmissione a parte più avanti, ne abbiamo già parlato in passato. Purtroppo nella Chiesa Cattolica Latina per tre secoli si è sospeso la pratica degli esorcismi quasi completamente, qualche esorcista c'è sempre stato, ma pochissimi. Quindi viviamo, siamo dopo un periodo di pausa di tre secoli e allora ecco che gli esorcismi non vengono più studiati nei seminari e i sacerdoti non ci credono e tanti vescovi non ci credono e non nominano esorcisti perché non ci credono e alle volte nominano degli esorcisti e gli esorcisti stessi dicono alle persone, oh io non ci credo, vai dalle psichiatra, vai dal medico, fatti curare. Viviamo in un periodo purtroppo in cui c'è una spaventosa carestia di esorcisti. Ecco che la gente va dai maghi, va dai cartomanti, ecco che la gente assiste a sedute spiritiche, entra in sette sataniche e non si rivolgono ai sacerdoti perché molte volte proprio non trovano, è un dramma riuscire a trovare un esorcista. In molti diocesi non ce n'è nessuno ed è una grave carenza. Io ho detto più volte che è un peccato mortale da parte del vescovo. Di fronte a una richiesta seria non di fronte a una richiesta purché sia. Molti dicono di avere il demonio e non sanno niente. Ma di fronte a una richiesta veramente seria, se un vescovo non provvede o personalmente o incaricando un sacerdote di provvedere, commette peccato mortale, manca un suo dovere preciso, sancito dal diritto canonico. Perché quando il vescovo ha il monopolio e il vescovo ha il monopolio della nomina degli esorcisti, guardate che dare il monopolio di una certa istituzione rende, quella istituzione rende obbligatoria. Per esempio, solo i vescovi possono nominare i parroci. Se in una parrocchia viene a mancare il parroco per qualsiasi motivo, perché muore, per altri motivi, il vescovo deve provvedere e se non prevede commette peccato mortale. Perché? Perché non è che il vescovo di una diocesi vicina possa provvedere. Deve provvedere lui al monopolio della nomina dei parroci? Ed è la stessa cosa per la nomina degli esorcisti. Hanno il monopolio della nomina degli esorcisti e questo crea in loro un obbligo di coscienza grave, a cui purtroppo molte volte mancano. Non sto a dire fan peccato mortale, ma materia grave sì. Poi ci vuole anche l'avvertenza e il consenso e anche per i vescovi può valere quello che il mio parroco chiamava l'ottavo sacramento, l'ignoranza. Può valere anche per un vescovo. Una prima osservazione. Tra l'azione ordinaria del demonio, la tentazione, e l'azione straordinaria del demonio, ossia quei mali e malefici di cui ci occupiamo in maniera particolare, non c'è un netto confine. È possibile anche che cedendo continuamente alle tentazioni, alle tentazioni a cui siamo soggetti tutti, dalla nascita alla morte, tutti quanti, quando mi sento dire parlate troppo spesso del demonio, io dico ma tu ci credi al demonio, non ci credi? Non lo sai tu vescovo, tu prete, che il demonio ci tenta tutti quanti 24 ore al giorno dalla nascita alla morte? E allora non sai che bisogna formare i cristiani come combattenti contro le tentazioni del demonio? Altro che protestare che se ne parla troppo. Certamente bisogna parlarne bene, bisogna parlarne rettamente, bisogna parlarne come ci insegnare come ci insegna la Bibbia, questo sì, ma protestare che si parla troppo spesso del demonio? È da asini, è contro il Vangelo, è contro il Vangelo, è contro la realtà. Ecco, non c'è un netto confine tra l'azione ordinaria e l'azione straordinaria, ossia è possibile che una persona, è il caso di Giudice Cariote, assecondando sempre l'azione ordinaria del demonio, ossia la tentazione, è possibile che cada nell'azione straordinaria del demonio. Ecco che il Vangelo si dice che durante l'ultima cena, Satana entrò in lui, basta, era finito, non era più Giuda ad agire, era Satana che agiva in lui, era Satana che agiva in lui. Persistendo nei peccati si può cadere così, ecco, ed è fondamentale in entrambi i casi, sia nei casi di possessione diabolica, ma disturbi diabolici, sia nei casi di tentazione, indispensabile e fondamentale usare i mezzi comuni di grazia. Ecco perché Gesù ci dice durante l'orazione dell'orto, vigilate e pregate per non entrare in tentazione, vigilate e pregate per non entrare in tentazione, una vigilanza continua, la fuga delle occasioni, guardate che mali immensi, specie nei giovani, ma non solo nei giovani, vengono prodotti da certe trasmissioni della televisione, di internet, eccetera. e sti giovani stanno ore e ore ad ascoltare, a vedere spettacoli che sono immorali, che sono immorali, vigilate, ossia fuggite le occasioni, se no ci cascate nel peccato, infallibilmente, infallibilmente ci si fa una coscienza sbagliata, una coscienza sbagliata. Qual è la coscienza sbagliata? È credere che sia giusto una cosa che invece è sbagliata, per esempio credere che sia giusto il divorzio, credere che sia giusto l'aborto. È coscienza sbagliata e si cade in colpa grave, e si cade in colpa grave. Ecco, il demonio vorrebbe strappare questo privilegio di potenza, potere combatterlo. Però Gesù è venuto, ci dice San Giovanni, per distruggere le opere di Satana. È venuto per questo scopo. E allora noi dobbiamo cooperare a quest'azione di Gesù. Come il demonio lotta quotidianamente contro di noi, così noi dobbiamo lottare ogni giorno contro di lui, certi di essere vincenti con la forza dello Spirito Santo. San Paolo ci dice con chiarezza, ma il Signore permette che siamo tentati al di sopra delle nostre forze. Con la tentazione ci dà la forza di vincere la tentazione, sempre. Però attenzione! Oltre alla vigilanza, alla fuga delle occasioni, è necessaria anche la preghiera, è necessaria anche la grazia di Dio, perché senza l'aiuto della grazia di Dio è impossibile non cadere nel peccato. vivere in grazia significa dire sempre sì a Cristo e no a Satana, conforme alle promesse battesimali. Come è utile ripetere spesso le promesse battesimali. Le persone che vengono a farsi esorcizzare, io sempre faccio ripetere le promesse battesimali, i voti battesimali. Come è importante ripeterli continuamente, continuamente. È una grazia la vittoria contro l'azione ordinaria del demonio ed insieme è la migliore preservazione contro la sua azione straordinaria. E passiamo a passare direttamente alle preghiere di liberazione. Dal momento che la sera di questa sera desidero parlare soprattutto delle preghiere di liberazione, ossia quelle preghiere che tutti possono fare, che non hanno bisogno di nessun permesso e non consentono nessuna proibizione, perché sono autorizzate da Gesù. Un sacerdote può magari proibire il posto, può non volere che le preghiere di liberazione siano fatte nella sua chiesa o nei locali parocchiali, ma non può proibire le preghiere di liberazione in se stesse. Uno le fa in un'altra stanza, le fa altrove, le fa altrove, ma non può proibire le preghiere di liberazione. Nessuno le può proibire. Da di notare che sono particolarmente efficaci le preghiere di adorazione e di lode a Dio. San Paolo dice salmi, inni, cantici spirituali. sono particolarmente efficaci anche le preghiere inventate. Non esistono formule fisse per le preghiere di liberazione, anche se esistono tanti libretti. Uno l'ho scritto anch'io, liberaci dal male, è andato moltissimo. Certi gruppi di preghiera l'hanno preso in massa, l'hanno preso tutti i componenti del gruppo di preghiera. Padre Gemma, Monsignor Gemma, ha scritto anche lui un libro sulle preghiere di liberazione, come farle, con le condurle, in maniera solenne, in maniera grande. E lui tutti i mesi, tutti i mesi, almeno una volta faceva una preghiera di liberazione solenne. Poi tante volte ha fatto e continua a fare esorcismi anche adesso che è vescomo emerito. Continua a fare esorcismi, continua a fare preghiere di liberazione. Tutte le preghiere sono buone, ecco, possano essere inventate. Ed è buona cosa abituarsi alle preghiere spontanee, specie invocando lo Spirito Santo, invocando l'intercessione di Maria Santissima, che schiaccia il capo al demonio, invocando i santi. Oh, quando io invoco durante gli esorcismi, invoco ad esempio l'intercessione di Padre Pio, il demonio diventa furioso. Quando invoco l'intercessione di Giovanni Paolo II, il demonio diventa furiosissimo, furiosissimo. E quando gli ho chiesto ma perché sei così arrabbiato contro Giovanni Paolo II? Una volta mi ha risposto perché ha rotto i nostri piani. Credo che dipenda dal fatto che Giovanni Paolo II, a lui dobbiamo la caduta del comunismo, la caduta, il crollo del comunismo nel nord Europa. Un'altra volta mi ha risposto perché ci ha rubato tanti giovani. Giovanni Paolo II, sapete quanto era affezionato ai giovani e come i giovani accorrevano a lui. E anche quando è morto avete presente quanti, direi, milioni di persone sono venute per onorare la sua salma, facendo delle file di quindici, venti ore pur di passare davanti alla sua salma. E tanti giovani, tanti giovani sono venuti. Ecco si diceva Giovanni Paolo II prima è andato a trovarli in tutto il mondo, poi tutto il mondo è venuto a trovare lui quando lui è deceduto. Ecco abituarsi anche alle preghiere inventate. ripeto quanto sia provvidenziale la nascita dei gruppi del rinnovamento carismatico perché hanno proprio rilanciato questa sensibilità alle preghiere di guarigione e liberazione. E quando mi telefonano purtroppo da tante nazioni e anche da tante zone d'Italia in cui mi si dice non ci sono esorcisti, in Germania non ce n'è, in Austria non ce n'è, in Svizzera non ce n'è, in Spagna non ce n'è, in Portogallo non ce n'è. E potrei continuare. E in tante diocesi italiane non ci sono esorcisti. io allora raccomando andate ai gruppi del rinnovamento. Non vi faranno esorcismi, vi faranno preghiere di liberazione, ma se li fanno con fede sono efficaci, sono efficaci. Le tante persone possedute dal demonio o che hanno mali malefici sono stati liberati attraverso le preghiere di guarigione e liberazione fatti dai gruppi del rinnovamento o da sesserdoti o da laici che si prestano a fare queste cose. Occorre però fare le cose bene e a questo scopo è importante tenere presente ad esempio la lettera della congregazione della dottrina della fede inviata a tutti i vescovi del mondo il 29 settembre dell'85. Ne deduco alcune cose che non si debbono fare. Altre cose le aggiungo poi. Per esempio non si possono fare gli esorcismi ufficiali riservati agli esorcisti. Quindi quelle preghiere del rituale riservate agli esorcisti non possono essere recitate dai gruppi del rinnovamento. non possono esercitati da chi non è esorcista. Si deve anche evitare di rivolgersi direttamente al demonio, di interrogarlo per conoscerli il nome. Ecco che questo documento della congregazione della dottrina della fede insiste soprattutto non interrogare il demonio per cercare di capirne il nome. Però io insisto non interrogare il demonio mai. Evitare il dialogo col demonio anche quando è il demonio che parla e cerca di attaccare il discorso. Non badarci. Far finta di niente. Oltre al resto è pericoloso. È pericoloso. Negli Atti dagli Apostoli abbiamo quel bel esempio dei sette fratelli di un certo figli di un certo ceva che volevano imitare San Paolo. E allora di fronte a una persona posseduta dal demonio gli dicevano noi in nome di quel Gesù che invocato da San Paolo ti impugniamo ad andare via. E il demonio dice io so bene che è Gesù. So bene che è San Paolo. ma voi chi siete? E gli ha percossi tutti e sette cosicché che nudi e sanguinanti sono scappati via. E tutta la città l'ha saputo ed è andata a finire che c'è stato un gran falò dei libri di magia, dei libri dei maghi. Come ripercussione di questo fatto. Ma è pericoloso. L'esorcista è protetto in maniera particolare. Per cui l'esorcista sì che interroga il demonio. E c'è dialogo col demonio. C'è dialogo col demonio. Quando è possibile? Perché ci sono molti demoni muti. È difficile farlo parlare. Ma in molti casi ci si riesce. È difficile fargli dire il nome perché per lui è già una mezza sconfitta a dire il suo nome. Però in molti casi ci si riesce. Ecco, evitare però con le preghiere di liberazione, evitare di rivolgersi direttamente al demonio per volerlo interrogare, per voler riconoscere il nome, per voler avere informazioni. D'altra parte non dimentichiamo che anche quando viene interrogato dall'esorcista, il demonio è un bugiardo di sua natura, per cui quello che dice non è da credersi. Il più delle volte dice mezzogne. Il più delle volte dice mezzogne. Solo in qualche caso il Signore lo obbliga a dire la verità. E vi potrei citare vari casi interessanti in cui ho imparato delle verità suggerite dal demonio. Uno almeno ve lo dico. Almeno un caso di un insegnamento dato dal demonio. Padre Candido, il mio grande maestro, stava per liberare una persona e col suo fare ironico diceva al demonio, vattene via di qui, vattene nella tua casa che il Signore t'ha preparato, ben riscaldata, bella calda. T'ha preparato una casetta in cui non soffrirai il freddo. L'inferno, capite bene. E il demonio ha detto con forza, tu non sai niente. Quando il demonio interrompe l'esorcista con una frase dura, tu non capisci niente, tu non sai niente, vuol dire che il Signore gli impone di dire una verità. E la verità che ha detto è stata questa. Non è stato lui, Dio, a crearlo l'inferno. Siamo stati noi. Lui non ci aveva neppure pensato. Dio ha creato solo le cose belle e buone. Figuratevi se Dio ha pensato di creare l'inferno e ha creato l'inferno. E chi va all'inferno non è Dio che ce lo manda. È lui che ci va con le sue gambe. È lui che ci va con le sue gambe. Le preghiere di liberazione avvengono in tanti modi diversi. Possono essere fatti da una persona sola, possono essere fatti da un gruppetto, possono essere fatti alla fine magari o durante una grande cerimonia. Sono famose certe preghiere di liberazione, per esempio fatte da padre Tardif, a piazze intere, a piazze intere gremite di gente. Preghiere di liberazione. O dopo la messa, alla fine della messa. Possono essere fatti a gruppi grandi. Ecco, è importante però, anche in questi casi, essere molto saggi, prudenti. Ad esempio, se uno celebra una messa, una messa solenne, e c'è una persona, o posseduta dal demonio, o isterico, che so io, che urla, che si butta per terra, va allontanata. Va allontanata. Perché ci sono le occasioni specifiche in cui si prega anche per queste persone. Ma non è che sempre queste persone abbiano il diritto di andare a disturbare una preghiera, specie una preghiera collettiva. Si possono usare i mezzi soliti, come la benedizione dell'acqua santa, la presenza di un crocifisso. Molto opportuno che le benedizioni con l'acqua santa siano fatte da un sacerdote. Però un papà, una mamma, possono benissimo e fanno molto bene a benedire i loro figlioli. Eh, mio padre e mia madre ci facevano una magari con l'acqua santa intinta nell'acqua, un segno di croci in fronte, ti benedico nel nome del padre, del figlio, dello Spirito Santo, che i genitori benedicano i loro figlioli. È una cosa sacrosanta. È importante evitare tutto ciò che può essere motivo di curiosità e non di preghiera fervorosa. Ad esempio, quando una persona si agita, quando c'è un gruppo di preghiera che prega, viene la voglia che tutti vadano a scuriosare, vadano a vedere. No, 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 no. Se un gruppo non è composto da persone preparate, la preghiera non va fatta. La preghiera di liberazione va fatta con persone preparate, perché basta anche una persona non preparata per rendere vana una preghiera di liberazione. Ad esempio, è successo a Meggiugorie che una notte intera Padre Ioso ha pregato per liberare una persona posseduta dal demonio. Alla fine non c'è riuscito e ha detto non siamo riusciti a liberare questa persona perché troppe persone qui presenti stavano qui solo per la curiosità di vedere se veniva liberata o no e non stavano invece soltanto per pregare, per aiutare, per pregare. Chi assiste deve pregare, deve contribuire alla liberazione. Può bastare una persona malefica per rendere vana una preghiera di liberazione o anche un esorcismo, per cui anche gli esorcisti debbano stare tanto attenti a scegliere le persone che assistono agli esorcismi. debbano stare tanto in guardia, sceglierle bene, persone di preghiera, persone che vengono veramente per aiutare, per contribuire. Si può pregare in lingue, ad esempio uno dei più famosi esorcisti italiani, il più noto esorcista della Sicilia, Padre Lagrua, nei suoi esorcismi è solito pregare in lingue. La preghiera in lingue che Sant'Agostino descrive, ne parla, preghiera in cui si direi c'è un'effusione di sentimenti tali per cui non si spiattellano parole precise, parole precise. Anche la preghiera in lingue è efficace, soprattutto però si è visto come sono efficaci le preghiere di adorazione e di lode a Dio. Molte volte per liberare una persona è più efficace Lodare Dio, glorificare Dio, cantare i salmi di gloria a Dio che non dire direttamente preghiere di guarigione o liberazione. È tanto anche un atto di carità accompagnare le persone colpite perché compiano un cammino di preghiera e di catechesi sia anche accompagnarle materialmente ci sono delle persone che se non vengono accompagnate non riescono ad andare in chiesa se non vengono accompagnate non riescono ad accostarsi alla comunione è una carità aiutare queste persone se non vengono accompagnate non riescono ad andare dall'esortista e non c'è da avere nessuna paura di riceverne dei danni di riceverne dei contagi purché le cose siano fatte naturalmente in grazia di Dio con retta intenzione con retta intenzione perché solo rare volte le parrocchie sono in grado di provvedere a queste necessità solo rare volte di accompagnare per esempio una persona dell'esortista di assisterla durante l'esortismo per aiutare e contribuire di accompagnare la messa il più delle volte nelle parrocchie non si trovano questi aiuti e allora ecco che occorrono gli aiuti spontanei e anche in questo sono grato ai gruppi sia del rinnovamento sia anche da altri gruppi di preghiera ci sono grazie al cielo i gruppi di preghiera che sono la salvezza attualmente credo della Chiesa se voi toglieste dalla Chiesa i gruppi di comunione e liberazione i gruppi dei focolarini i gruppi degli scout i gruppi di azione cattolica i gruppi del rinnovamento ma cosa ci resterebbe? ma cosa ci resterebbe? ci resterebbe ben poco ed è questa seguire aiutare queste persone a un cammino di istruzione religiosa non mi è mai capitato come da quanto sono esorcista l'occasione di avere delle conversioni di avvicinare le persone a Dio la prima cosa che chiedo è se uno va messa tutte le domeniche se uno prega mattina e sera e raccomando la recita del rosario e raccomando avvicinarsi ai sacramenti e il più delle volte anche persone colpite dal demonio vengono e non pregano non vanno a messa e allora la prima cosa è avvicinarli alle pratiche di preghiera alle pratiche di pietà e poi continuare anche dopo anche dopo che è avvenuta la liberazione che continuino in un intenso ritmo di preghiera se no c'è il rischio della ricaduta nella possessione del demonio c'è il rischio che accada quello che il Vangelo ci dice del demonio che esce da una persona e poi va in giro poi cerca altri sette demoni peggiori di lui e rientra in quella persona e lo stato di quella persona è peggiore di prima perché è perché non ha saputo tener fede a un ritmo di preghiera e di vivere in grazia di Dio come è necessario per essere salvaguardati dal demonio aggiungo che c'è una sostanziale differenza sul comportamento da tenere nei casi di esorcismo e nei casi di preghiere di liberazione una sostanziale differenza nei casi di esorcismo l'esorcista è quello che guida la preghiera e che fa la preghiera gli altri contribuiscono con le loro preghiere private e c'è da evitare certi gesti per esempio la mania durante le preghiere di liberazione di andare a mettere tutti le mani sulla spalla delle persone che vengono su cui si prega no no le persone non vanno toccate magari solo chi guida la preghiera specie sacerdote può tenere la mano sul capo le persone non vanno toccate tutt'al più possono le persone i laici che sono presenti e pregano possono tenere la mano alzata verso la persona per cui si prega ma io sono molto nemico di coloro che hanno la mania di andare a toccare e di mettere le mani addosso ecco nel mio nome scaceranno i demoni il potere dato da Cristo a tutti i credenti è un potere stupendo ma nell'esercizio pratico perché sia efficace richiede tanta fede tanta umiltà tanta dimenticanza di se stessi tanto spirito di preghiera se no non si ottiene niente se no non si ottiene niente questo vale anche per i sacerdoti ma vale anche per coloro che fanno preghiere di guarigione e liberazione ecco concludo questa prima parte della mia trattazione preghiere ed esorcismi preghiere di guarigione e liberazione le preghiere di esorcismi sono sacramentali preghiere pubbliche istituite dalla chiesa riservate a quei sacerdoti che ne hanno avuto l'autorizzazione dal vescovo le preghiere di liberazione sono preghiere che possono essere fatte da tutti sono preghiere private ma se sono fatte con vera fede con vera umiltà con vera unione con Dio anche queste preghiere hanno molto efficacia e io desidero spero cerco di contribuire al moltiplicarsi delle preghiere di liberazione proprio per rimediare a quella grande penosa scarsità di esorcisti in cui si trova attualmente la chiesa latina la chiesa latina la chiesa latina